120.000 euro sequestrati dalla Guardia di Finanza a un imprenditore del tortonese. Le fiamme gialle in esecuzione di un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tortona hanno sottoposto a sequestro preventivo, finalizzata la confisca per equivalente, la disponibilità finanziaria depositata sui conti bancari per un valore complessivo di 120.000 euro intestati appunto a un imprenditore del tortonese, responsabile di non aver effettuato i versamenti dell'IVA e dell'IRAP. Tutto è partito con una verifica fiscale condotta nei confronti di una società di capitali operante nel settore della sicurezza. Durante il controllo sono state constatate diverse violazioni alla normativa tributaria e l'omesso versamento di IVA e di IRAP appunto per oltre 160.000 euro. I finanzieri dopo la denuncia penale per l'imprenditore hanno proseguito gli accertamenti al fine di rilevare l'esistenza di consistenze patrimoniali di valore equivalente all'IVA sottratta al fisco e alla fine è stata inoltrata all'autorità giudiziaria la proposta per l'emissione del sequestro. Nel Casalese invece è stato scoperto un nuovo evasore totale. L'imprenditore infatti non aveva presentato le dichiarazioni per i redditi dell'anno 2009 ma i suoi autoveicoli continuavano a circolare indisturbati. È stata scoperta così dai finanzieri della compagnia di Casale Monferrato una società di capitali operante nel settore dei servizi di noleggio con conducente che si è per diverso tempo completamente sottratta al pagamento delle imposte. L'azione di controllo del territorio e l'analisi dei dati raccolti attraverso l'anagrafe tributaria hanno evidenziato infatti un'incongruenza tra l'operatività della ditta e i dati tratti dalle banche dati disponibili da dove appunto emergeva l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dei ricavi dell'attività. Dopo la verifica fiscale è stato messo in atto un lungo lavoro di ricostruzione dell'effettivo volume d'affari della società tenuto conto della frammentarietà della documentazione contabile esibita o trovata dai militari operanti durante le iniziali operazioni che sono state estese anche l'abitazione del rappresentante legale della società stessa. Alla fine i finanziari sono riusciti a quantificare in circa 500 mila euro i ricavi non dichiarati negli anni precedenti a partire dal 2009, inoltre 100 mila euro i ricavi ottenuti quest'anno e non contabilizzati e inoltre 20 mila euro l'IVA e VASA. Gli importi sono stati segnalati all'agenzia delle entrate per il recupero a tassazione mentre per il rappresentante legale della società è scattata la denuncia penale per occultamento e distruzione delle scritture contabili.